2 giorni di ricordo per la preghiera 3 giorni di ricordo 5 giorni di ricordo 5 giorni di ricordo io ho i strozzapreti io faccio invece macarona 100 io gli gnocchi e le gnocchi gli ingredienti da me c'è solo il sale e l'acqua da me c'è patata sale e uovo e farina. Qua c'è solamente un uovo, acqua e sale e farina. Allora, ora cominciamo la lavorazione. Questa l'hai fatta così. A matassa. Chi diceva a matassa perché se lo mettevano sopra il braccio? Man mano, man mano. E' con lo schiocco. E' con lo schiocco. Maccarona a matassa. Come chiamavano ieri sera? Maccarona a getto. Come chiamavano quelli? Quello è inizio. Ah, innazzica. Innazzica è inizio. Ma devi fare sferda sferda questa, che devi fatte, nemmeno te ne vedi quando muovi le mani. Sprengono tutti quanti fatti, no? Quando mi metti entra in bocca, tutti una misura c'hanno. Ah, certo. E allora? Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti.